buongiorno buongiorno a tutti ieri avevamo colorato gli occhi e oggi volevo farvi vedere sfruttando un lavoro che ho a metà per un corso mi avete chiesto come avevo creato gli occhi volevo farvelo farvelo vedere quindi eccola qua la nostra faccina hola conny dalla colombia mamma mia allora ragazze un po di passadizzo come vi dicevo finiamo l'occhio in questo caso abbiamo utilizzato il ho utilizzato come base il mold teschio ok quindi le dimensioni sono queste abbiamo utilizzato come base il mold teschio e su sulla base del raluca dalla romania wow adesso dovrà mettere i sottotitoli così potete capire tutte mi spiace io parlo giusto l'italiano è un pochino di inglese vi dicevo abbiamo lavorato in aggiunta quindi sono andata ad aggiungere tutte le varie parti fino a creare il il viso è arrivato adesso il momento di finire finire l'occhio quindi con un po di pasta di zucchero cominciamo dopodiché facciamo così almeno posso alzarlo ecco senza tocchinarlo troppo andiamo a uniformare allora come pasta di zucchero ve lo dico subito che mi avete già scritto in tantissime in questo momento sto utilizzando la flash mod anche perché le altre purtroppo sono finita a magazzino non ne ho non ne ho più mi è rimasta soltanto la flash quindi in questo preciso momento sto utilizzando la nostra flash mod che è la pasta di zucchero per per mani normali ok che non è propriamente la mia io solitamente utilizzo la super mod ma non ci crederete ho fatto tanto che sono rimasta senza quindi cosa ho fatto ho rivestito il mold teschio ok e sto andando a creare la prima parte della palpebra e dell'arcata sopraccigliare in questo modo questo invece come poi meglio me lo chiedete sempre questo è il uno dei pennelli che trovate nel come si dice nel regular painting kit ok è la misura è il pennello piatto la misura più piccola delle due che io trovo stupenda e utilissima per andare a appunto a infilarci dentro gli spazi piccoli senza andare a deformare perché al contrario se io andassi a inserire il il pennello quello in silicone a punta piatta ovviamente il rischio sarebbe quello di andare a deformare le parti le parti diciamo intorno e questo l'abbiamo fatto adesso prendiamo la cosa bellissima del fatto di utilizzare il mold teschio è che possiamo andare veramente a fare quello che vogliamo aggiungendo pezzetti microscopici anche di pasta di zucchero fino a che non abbiamo raggiunto il diciamo il risultato che che volevamo ottenere no quindi possiamo la anzi quello che volevo dirvi è che diciamo la la gioia di modellare con un mold teschio non viene assolutamente meno anzi anzi io trovo che sia molto più stimolante che senza ecco andiamo a coprire la giuntura in questo modo ciao guerina un bacio ciao angelita ciao barba troppo mostruosa ricordo ai nostri amici che ci vedono su youtube che questa è la registrazione di una diretta facebook quindi io leggo in appunto in diretta i vostri i vostri commenti i vostri commenti quindi non è che sono pazza rispondo a dei commenti che sto che sto leggendo che sto leggendo ok andiamo sempre a fissare la la pasta di zucchero che man mano aggiungiamo ok dobbiamo sempre ancorarla al lavoro sottostante altrimenti diventa chiaramente quasi impossibile andarlo a lavorare ok così questo qua è il risultato di un corso privato che abbiamo fatto un corso online caricatura e quindi mi era avanzata questa testina ho detto cosa ci faccio adesso vado a dare l'espressione ok grazie alle sopracciglia ecco un bel corso un bel corso sulle espressioni del viso che so che vi piace me lo chiedete sempre ora poi prossimamente lo metto lo metto in in conto eh anzi ora volevo farvi un sondaggio su cosa vi piacerebbe sia come dirette che come corsi veri e propri o come comunque workshop live ok quindi così l'avete visto il il tutorial che abbiamo messo questa mattina sul nostro canale youtube quello sull'aerografo e io sono io sono veramente negata con l'aerografo però l'anno scorso mi sono immolata per la causa se avete voglia sul nostro canale youtube ovviamente b magenta trovate tutti i nostri tutte le stiamo caricando pian piano tutte le le dirette anche dell'anno dell'anno scorso ok e stamattina abbiamo caricato quella dove vi avevo fatto vedere come come creare le fiamme con con l'aerografo con i nostri colori appunto per aerografo base alcol ok stiamo facendo due vedete che sto creando le le appunto le le rughe adesso mi prendo ancora un pochino di pasta di zucchero vedete che ne tiro fuori poco alla volta perché per fare questo lavoro la pasta deve essere molto morbida ok altrimenti il rischio è che poi per andare a coprire le giunture facciamo estremamente fatica e quindi rischiamo di rovinare tutto il il lavoro quindi se io prendessi tanta pasta di zucchero e la lasciassi fuori questa seccherebbe e ovviamente mi comporterebbe un un problema poi di lavorazione invece prendendola poco alla poco alla volta riesco a ammorbidirla molto bene quasi a farla diventare appiccicosa ok ricordo già che anche lì mi scrivete sempre che il i nostri corsi online sono disponibili anche in inglese francese e spagnolo quindi se volete mandatemi pure un messaggio che possiamo organizzarci ok così mi raccomando copriamo sempre le le giunture vedete la prima cosa che faccio qualunque cosa stia facendo è ancorarmi la pasta di zucchero in modo che a quel punto posso andare a lavorare e così ok e abbiamo fatto il come si dice il l'occhio come avevamo visto ieri vi rimando alla diretta alla diretta che abbiamo fatto ieri ok andiamo a dare un po ci tenevo a farvi vedere questo perché finché lo facciamo con un occhio normale si ha senso e l'effetto è notevole ma fino a un certo punto quando cominciamo a lavorare su soggetti appunto di questo tipo vi volevo far vedere come una corretta colorazione possa andare a esaltare l'espressività del viso importante ok e questo è quanto domani mi piacerebbe anzi facciamo una cosa già che ci siamo vi aggiungo un attimo anche una parte di fronte mi vado a prendere ancora un po' di pasta di zucchero così anche qui agiamo per gradi ok quindi appiccichiamo la pasta di zucchero e andiamo a ok così 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 vedete come sto avrei dovuto farlo prima di colorare l'occhio però ce ne facciamo come sempre una ragione ok mi piaceva molto e allora abbiamo optato per per questa in effetti in effetti però hai ragione potrebbe sembrare se non fosse che non è verde però non era lui ripeto ok abbiamo creato vedete le le rughe di espressione sulla fronte sulla fronte con un pennellino in silicone andiamo a creare invece quelle che dovrebbero essere le rughe della vecchiaia quindi vi ricordo i nostri mold teschio disponibili nella misura grande sono sei centimetri o nella misura piccola sono circa tre centimetri e mezzo quattro con la misura piccola stavo ve lo faccio vedere anche se non è finito stavo facendo mi stavo adoperando per cercare di fare Voldemort prima fila adesso ce l'ha fissa con Harry Potter vedete stesso discorso qui abbiamo il mold in abbiamo il teschio fatto col nostro mold in silicone sopra il quale abbiamo creato la come si dice il il viso ok aspettate ricordo a tutti il nostro canale youtube per poter disporre di tutte le nostre dirette tutti i nostri tutorial gratuiti suddivisi in categorie non vi dimenticate di iscrivervi così verrete avvisati ogni volta che caricheremo un un video che altro vi devo dire io vi ringrazio vi do un super abbraccio e direi che domani dubito fortemente di riuscire a essere con voi anche perché eh devo preparare tutto che poi andiamo a Milano al Cartumix insieme a Daniela Alborino Simone Lopez insieme alla grandissima Marzia tanto me li dimentico tutti Davide Samantha Claudia Chicca Massimiliano Alessio Cesare insomma tutti quanti sono una marea di artisti fantastici troverete anche anche me venerdì e sabato quindi se volete venire al Cartumix a Milano io contribuirò all'opera mastodontica che Simone ha progettato e ideato con una cosa che ho finito ieri sera ve la faccio vedere velocissima non si può altro non si può fare adesso la fotografo e poi ve la ve la pubblico quanto so scema ragazzi va bene signori quindi domani non credo direi che slittiamo a lunedì per qualunque cosa io sono a vostra disposizione mandatemi le vostre domande le vostre richieste vi ricordo per tutti gli acquisti www.bimagenta.it baci baci buona giornata grazie per essere stati con me alla prossima ciao